Bene, buongiorno, dunque con questo video volevo farvi vedere le basi del rigging. Abbiamo visto nelle settimane scorse come animare dei movimenti, adesso invece andiamo proprio a animare qualcosa di serio. Allora questa è una Susanna, che sarebbe la scimmietta, che abbiamo rigato. Ora, rigato è un concetto che significa, in pratica, che dentro Susanna sono state inserite delle ossa. Queste ossa sono, quindi andiamo in Object Mode, in pratica è un'armatura, quindi qui noi abbiamo due oggetti distinti. Abbiamo quello che è l'armatura, che è questa, cioè praticamente sono le ossa sottostanti, questi. E poi abbiamo, adesso andiamo in Object Mode, quindi abbiamo l'armatura, che è questa, vedete che sono questi insieme di nodi. Poi nel video cercheremo di rifarli. E poi abbiamo invece, quella che è proprio la mesh di Susanna, che è questa, che sono i vari vertici che vanno a comporre la mesh. Ora, l'armatura, cioè la mesh è stata collegata all'armatura, in modo tale che, andando in modalità, che si dice Pose Mode, e quindi, vediamo un po' se riusciamo ad andare, quindi andiamo in Object Mode, e poi da Object Mode dovrebbe esserci anche la... Allora, facciamo Layout, Animation, Object Mode... Ah sì, perché bisogna cliccare sull'armatura, e qui abbiamo la Pose Mode. Allora, la Pose Mode permette di andare sulle singole ossa, quindi io posso selezionare un osso, questo, e posso ruotarlo, in modo tale da cambiare la mesh. Ora, a cambiare la mesh, se dovessimo fare un'animazione della scimmia, con tutte le espressioni facciali, dovremmo fare, in teoria, migliaia di mesh, cioè decine di mesh diverse. Invece, il rigging consente di alterare una mesh già esistente, usando i punti vertici da cui è composta prima. semplicemente alterandoli sulla base di alcune ossa che muovono la mesh. Quindi questa qui è la mia Susanna, quindi ho usato un esempio un pochino significativo, in cui gli ho messo uno scheletro, come vedete, fatto un po' di ossa, che vanno a controllare la macella, la bocca, vanno a controllare le sopracciglia, qua, vedete che gli ho messo un po' queste cose, e poi vanno a controllare anche le orecchie e il capo. Quindi la prima cosa che possiamo fargli fare è, per esempio, di muovere questo osso, che è il bonsai, che sarebbe il mento. Quindi noi andiamo lateralmente, 3 del tassalino numerico, e poi, selezionando, andando in post mode, quindi selezionando questa cosa, possiamo fare R e ruotare soltanto il mento, questo qui. E vedete che la mesh viene modificata. La stessa cosa possiamo farla per questo osso che rappresenta il sopracciglio, questa cosa qua. Se facciamo R, possiamo fare in modo tale che il sopracciglio si ruoti, e vedete che cambia la mesh. E principalmente le orecchie. Se noi andiamo e vediamo dall'alto le orecchie, quindi prendiamo questo bone, buonotto, facciamo R, e possiamo sostanzialmente fare delle animazioni con le orecchie. Quindi fargli fare delle cose. Questo è potentissimo, ed è una cosa molto molto importante. Tra l'altro poi facciamo Clear, Transform, All, torniamo alla versione principale. E l'idea è quella di avere, quindi una volta che abbiamo un oggetto, una mesh, in cui all'interno c'è un'armatura, possiamo fare delle animazioni. Per esempio, supponiamo di voler fare un'animazione che rappresenti dei movimenti di questa scimmietta. Quindi per esempio che muove le orecchie, che muove i sopraccigli, che muove il mento. Quindi noi siamo sulla 1, e possiamo, tutto sommato, salvare la nostra armatura. Quindi andiamo in Pause Mode qua, e facciamo un I, quindi praticamente selezioniamo tutta la nostra situazione, quindi l'armatura, e facciamo I, e salviamo la, direi, whole character. Cioè salviamo tutto, quindi tutte le ossa di cui è composto. Tanto facendo A, possiamo fare anche I, e salviamo tutte le ossa proprio, quindi tutte le ossa come sommesse. E poi andiamo in, alla 20, e alla 20 gli cominciamo a mettere, che mettiamo di lato, gli prendiamo questo osso, e gli mettiamo il naso, cioè il mento che si mette così, e poi con 7, prendiamo questo osso, e facciamo R, quindi prendiamo queste due orecchie, e le incliniamo, poi prendiamo ancora le sopracciglia, che sono queste e queste, lo prendiamo di lato, facciamo R, e vedete che gli facciamo così, e a questo punto facciamo di nuovo un I, e facciamo I, whole character, ok, quindi abbiamo fatto praticamente un movimento, se vedete che se io muovo, vedete che abbiamo questa espressione, quindi la nostra scimmietta, praticamente assume un'espressione, un pochino, diciamo preoccupata, andiamo alla posizione 40, e qui gli facciamo pause mode, pause, e facciamo clear transform all, quindi la rimettiamo, perché gli facciamo, ah, seleziamo tutte le ossa, e poi facciamo pause, clear transform all, quindi torna normale, e qui alla riga 39, gli mettiamo, magari facciamo 40, ripetiamo, pause, clear transform all, e facciamo I, e prendiamo whole character, ok, quindi a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo un'animazione che praticamente fa questo effetto, quindi da 0 a 40, quindi qui dobbiamo metterci che, end 40, e poi se gli mandiamo il play di questa animazione, abbiamo, vedete che, la nostra scimmietta fa questo, questo tipo di animazione, ok, adesso non è importante il, il fatto che sia fatto bene o male, ma il fatto che abbiamo, avuto queste cose, allora, il, il modo per salvare, per rappresentare questa animazione, è andare qui in dopsheet, andiamo in action editor, vedete qui abbiamo un'armature action, ne mettiamo scimmietta, scimmietta, scimmietta a grotta, no? E questa sarà la nostra azione, il fatto che la scimmietta a grotta, insomma, fa un po' qualche cosa, quindi per vederla facciamo, vediamo, vediamo questo, 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 questo movimento, che si ripete, allora, questa è l'animazione finale, e quindi l'abbiamo fatta, andiamo all'inizio, ora, lo scopo di questo, primo incontro sul rigging, è invece quello di, capire come partendo da una scimmietta, aggiungere l'armatura, quindi poterla predisporre, per fare questo tipo, di animazione, quindi al momento, facciamo save us, salviamo animazione scimmietta, salviamo, e poi portiamo invece da un, da tabula rasa, quindi portiamo con un cubo, cancelliamo il cubo, e qui cominciamo a, metterci la scimmietta, quindi cosa facciamo? Facciamo shift a, mesh, e prendiamo monkey, e abbiamo la nostra scimmietta, ora, quello che noi facciamo, è quello di costruire, uno scheletro, dentro la scimmietta, dentro Susanna, quindi, come si fa a costruire uno scheletro? Questo si ottiene con, add, o shift a, quindi add, armature, e prendiamo l'armature, che sarà un singolo osso, quindi viene costruito un singolo osso, che è coincidente con il centro, della scimmietta, singolo osso fatto così, si vede poco, quindi, il mio suggerimento è quello, di, una volta che abbiamo, aggiunto l'osso, compaiono queste, cose verdi, quindi andiamo sul primo, dove l'animazione, è un omino che corre, e qui in teoria, dovremmo vedere, viewport display, viewport display, abbiamo la possibilità, in front, che permette di vedere l'osso, in coordinate, diciamo, ai raggi X, cioè praticamente lo vediamo, anche se è all'interno del nostro corpo, se ci dà fastidio, vederlo come octaedro, possiamo vederlo come stick, quindi viene fuori, semplicemente, questo stick, il vantaggio di vederlo come octaedro, è che si capisce bene, come gira, cioè le ossa, girano attorno, praticamente ruotano, attorno alla testa, la testa è questa, e la coda è questa, quindi la coda è più piccola, la testa è più alta, quindi le ossa girano attorno alla testa, questa è la cosa importante, allora, per riuscire a fare quello che ci interessa, dobbiamo estendere, quindi editare questo osso, aggiungendo delle ossa, quindi la prima cosa che facciamo, è andare in edit mode, andiamo a selezionare col tasto sinistro, la testa, lo vediamo dall'alto, perché? perché facciamo estrude, quindi estrudiamo, perché vogliamo avere un osso, che raggiunga, anzi due ossa, quindi un osso che ci raggiunga all'inizio dell'orecchia, e poi un altro osso, che arrivi all'estremità dell'orecchia, facciamo la stessa cosa, quindi clicchiamo, estrudiamo, anche per l'altra orecchia, e abbiamo ottenuto, diciamo, il primo, sì, quindi diciamo che, così non va bene, ctrl z, ctrl z, facciamo ctrl z, ctrl z, ctrl z, quindi estendiamo qua, quindi lo facciamo, di fronte così, che forse facciamo prima, e, no, forse potremmo effettivamente farlo, come ce l'ha suggerito lui, cioè, cominciare da qua, estruderlo, estruderlo, ok, poi riclicchiamo qua, sette, estruderlo, estruderlo, così abbiamo queste osse, e poi, ehm, facciamo, vediamo con tre, quindi da, ehm, vediamo un po', quindi il problema è di, selezionare, in edit mode, ecco qua, e, ehm, sette, facciamo l'estrusione, per arrivare fino a qua, più o meno, e poi da qua, ehm, facciamo l'estrusione per le, per le ciglia, vediamo un po', se facciamo l'estrusione, lo estrudiamo, fino a qua, e qui, facciamo l'estrusione, fino a qua, ok, potrebbe forse andare, e poi in più, facciamo ancora l'estrusione, per il mento, quindi, facciamo click, destra, estrudiamo, per arrivare al mento, ok, questa struttura qua, forse, forse, potrebbe andare, perché vedete che, ehm, ruota tutto, in modo opportuno, allora, per vedere quali sono gli effetti, vediamo un po' di fronte, vedete che c'è qualcosa che non va, quindi prendiamo, questo, e aggiustiamo, con G, praticamente cerchiamo di, di definire, di fare in modo tale che le ossa, praticamente, agiscano, più o meno dove ci aspettiamo, ok, ora, una volta che abbiamo fatto lo scheletro, bisogna associare, quindi andiamo in Object Mode, bisogna associare la Mesh, e poi Shift e clic, facciamo Shift e clic, lo scheletro, facendo in questo modo, possiamo fare Ctrl P, perché vogliamo, impostare il parent, to, armature, with automatic weights, questo è, il trucco, per riuscire a fare in modo tale che, questa, questa scimmietta, possa essere, rigata, se abbiamo fatto tutto giusto, adesso quindi lo verifichiamo, andiamo in modalità, Pause Mode, la Pause Mode, praticamente, cliccando sull'armatura, si può andare in Pause Mode, ora, una volta che si è in Pause Mode, si può, magari andiamo nella menu Animation, e quando siamo nel menu Animation, possiamo controllare se la, rigging, è proprio quello che ci aspettavamo, quindi cosa facciamo, andiamo dal top, selezioniamo il singolo osso, e proviamo a ruotarlo, e vediamo che, ruotando questo osso, abbiamo effettivamente, l'effetto, di alterare l'orecchio, e se clicchiamo qua, possiamo, spostare anche pezzi del cranio, quindi possiamo, in realtà, muovere diverse parti, e il mento, se lo vediamo di lato, quindi selezioniamo qua, facciamo R, vedete che possiamo alterare il mento, e le sopracciglia, vediamo un po' se funziona, clicchiamo su questo, e vedete che possiamo muovere, le sopracciglia, e in realtà tutti gli occhi, quindi possiamo, fare un bel po' di movimenti, anche in R, possiamo, vedete, possiamo abbassare gli occhi, alzare, ruotarli, tipicamente si ruotano, quindi il modo in cui si muovono, e alterano la mesh, dipende da come è fatto, lo scheletro, questo è uno scheletro, molto semplice, si possono fare scheletri, in modi molto diversi, ma il concetto fondamentale, è che abbiamo, un oggetto rigato, cioè vuol dire una mesh, al cui interno, sono state inserite delle os, che le quali sono, possono modificare, il nostro, il nostro, la nostra mesh, senza dover creare, tutte le posizioni intermedie, che sarebbero richieste, per fare le animazioni, dopodiché, come abbiamo visto all'inizio, possiamo poi, usare, il drop sheet, qua sotto, per impostare, un'animazione particolare, e, basta, dire che questo, è la premessa, per il, il rigging, qualche mese fa, ho fatto un esempio, che, è molto più banale, che quello sul batterio, che, che vi rimando, ma, il, il concetto, è sempre lo stesso, quindi, anche nel batterio, abbiamo fatto, un po' di mesh, un po' di, un po' di vertici, e poi, all'interno, gli abbiamo messo, un, uno scheletro, nel caso del batterio, gli abbiamo messo, solo due o tre ossa, qui, vedete, che ne abbiamo messo, qualcuno di più, ma il concetto, rimane, uguale, i casi più complessi, su cui poi magari agiremo, nelle lezioni successive, saranno quelle, dell'animazione, di, uomini, insomma, di figure umane, uomini donne, o animali, che vedremo, che si possono fare, avendo degli scheletri, precostituiti, comunque, la base, è più o meno questa, in realtà, sulle, sulle ossa, ci sarebbe moltissimo da dire, ma a me interessa, che voi capiate, che le ossa, ruotano attorno, alla loro testa, e che quindi, potete, e che potete, poi, manipolare le ossa, attraverso il pause mode, quindi, manipolare la mesh, quindi, in realtà, la mesh, è gestita dall'armatura, è gestita dall'armatura, attraverso la pause mode, e usando la pause mode, si riesce a modificare la mesh, senza doverla ricostruire, per ogni movimento, qui, nel caso, se vi desse fastidio, potete, togliere l'octaedral, mettere la stick, così, un po' meno intrusivo, e, nel caso, vi desse fastidio, potete, anche, nascondere, le ossa, quindi, toglierle in fronte, solo che, il problema, è che, se le nascondete, avete meno visione, di come le ossa, lavorano all'interno della mesh, per questa prima lezione introduttiva, sul rigging, direi che, è già tanto, ci sentiamo, poi, per le animazioni, proprio, di figure umane,